Salve a tutti i lettori di androidblock.it e di agemobile.com oggi ci troviamo a recensire la videocamera del Mediacom PhonePad S500 che ci è giunto in redazione in condizioni di luce normali questo dispositivo risponde veramente molto bene a differenza di molti altri smartphone cinesi attualmente sul mercato c'è da dire che le condizioni di luce in questo video sono veramente molto scarse date le condizioni meteo degli ultimi giorni quindi un controluce sarebbe quasi insensato mentre per quanto riguarda il pan veloce è possibile notare una stabilizzazione davvero molto buona così come anche per il fuoco che è veramente molto veloce